Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio di settimana. È una settimana importante questa perché ci porta all'inizio del Tempo Santo della Quaresima con il mercoledì delle Sacre Ceneri. Quindi vogliamo disporre il nostro cuore a vivere bene questo tempo, che sia un tempo di preghiera, di riflessione, di meditazione, ma soprattutto un tempo, tra virgolette, di pulizia, di pulizia del cuore. E per poter fare questo abbiamo bisogno di una cosa soltanto, della parola di Dio che ci faccia luce, che ci dica come vivere, come muoverci, come agire, come parlare, come comportarci. Lampada ai miei passi è la tua parola, così recita la parola appunto. E allora ogni giorno lasciamoci muovere dalla parola del Signore. Ecco allora, in questo tempo un contatto più vivo, più frequente con la parola del Signore. Io tra poco prendo il treno per raggiungere tutti gli amici di Roma e so che ce ne sarete perché mi avete scritto diverse persone. Dalle 16 alle 18 sarò alla libreria San Paolo in via della conciliazione per incontrare gli amici, i lettori e firmare le copie del libro La Speranza che cerchi. All'inizio di questo tempo e di questo giorno vi dedico questo canto. E' bello star con te E non lasciarti mai Signore resta qui Consola i nostri cuori E parlaci d'amore Tra mille voci che Affollano i pensieri La voce tua è per noi Un suono dolce ma Più forte di ogni voce Io sulla tua parola Signore Signore Le re ti getterò E non temerò Perché ho fiducia in te Parola viva sei Mi doni nuova vita La tua parola in me La tua parola in me E' salvezza E' lampada ai miei passi E mi guiderà Le strade Le strade dove che Non vedo intorno a me Ma io confido in te Ma io confido in te Signore Parola viva La tua parola in me E allora Che il motto di questo tempo Sia appunto Gesù confido in te Il Signore Sia con voi E con il tuo spirito Vi benedica Dio onnipotente Padre E figlio E Spirito Santo Amen Buona giornata a tutti E per gli amici di Roma Ci vediamo pomeriggio Grazie